La protezione civile della regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali sull'intero territorio Dalle 14 di oggi e almeno fino alle 20, sono previste ulteriori precipitazioni caratterizzate da rapidità di evoluzione Uno scenario che si sta ripetendo sulla regione e caratterizzato da incertezza previsionale e temporali con rapidità di evoluzione Come si sta ripetendo? E coinvolgimento delle aree urbane depresse Attenzione anche alle raffiche di vento e ai fulmini. Dell'avviso elaborato dal centro funzionale è evidenziato, che la saturazione dei suoli, potrebbe aggravare la situazione Si prega pertanto di porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure alte a prevenire e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare